Il tetto con la doppia ondulazione lo rende più sensuale. Le linee eleganti lo rendono un modello di classe. Di che autovettura stiamo parlando? Peso RCZ. Il coupe sportivo offre sensazioni di guida inedite. Ha un perfetto connubio di grazia e potenza. Seduce al primo sguardo. Niente è lasciato al caso nemmeno all'interno dell'abitacolo. Per rendere ogni momento a bordo un momento eccezionale. I sedili sportivi avvolgenti si sposano perfettamente con la forma del corpo. La postazione di guida è studiata per garantire il massimo comfort al conducente. E la posizione abbassata permette di apprezzare meglio la qualità su strada di RCZ. Questa è la fantastica autovettura del giorno. Peso RCZ. Noi siamo la Ratti Non Solo Auto. Ci trovate a Barzago in provincia di Lecco. In via statale numero 17.